Viviamo in un assoluto precariato, un precariato di ideali, non c'è una strategia o un disegno di costruzione della società di progetti. Quando noi parliamo ovviamente dei temi della occupazione, dei problemi di questa nostra realtà, dell'area del Mediterraneo, non mi riferisco tanto ai problemi del Mezzogiorno in termini istantivi o antichi, ma di una nuova strategia che coinvolga l'Europa, io ritengo che sono temi di novità, forti, dove bisogna recuperare la politica, bisogna recuperare il ruolo dei cattolici impegnati in politica. I cattolici devono recuperare una propria unità, una propria presenza organizzata e non essere distribuiti o frammentati nell'arcipelago degli schiaramenti parapolitici o dei movimenti che oggi sono presenti.